buongiorno oggi siamo venuti al lago negro siamo in provincia di potenza nel cuore della basilicata siamo con antonio mango e siamo come vedete una struttura abbastanza singolare abbastanza unica nel suo genere perché che cosa era questa antonio questo era una vecchia fabbrica un vecchio lanificio perché quasi faceva la lana quindi al lago negro un tempo lontano c'era una fabbrica di lana poi è stata dismessa e un gruppo di ragazzi hanno deciso di fare questo locale devo dire molto suggestivo molto bello poi abbiamo visto dall'esterno c'è un castello magnifico il castello del centro storico di lago negro e poi ci sono delle montagne siamo immersi nella natura esatto e certamente faremo so che faremo un brasato un po la piemontese però versione lucana esatto e c'è innanzitutto un grande pezzo di carne importante da queste parti sì il taglio che andremo ad usare il reale di di razza podolica che è una razza bovina delle nostre parti e poi c'è un altro importante elemento del territorio il vino perché sì perché andremo a brasare la carne con l'alianico del vulture che è l'unica docci della basilicata il nostro vino molto famoso viene chiamato il barolo del sud è vero vino importante nella zona soprattutto ce ne sono di diversi tipi il vulture è una zona nella zona vicino potenza dove si fa questo grande vino allora rapidamente i passaggi quali sono facciamo un soffritto facciamo un soffritto con la cipolla dorata in in olio la faremo stufare per qualche minuto prendremo a brasare la carne e la faremo stufare con appunto l'alianico del vulture molto lentamente molto lentamente cuocerà circa tre ore e mezza quattro anche in base alla grandezza del taglio che andremo ad usare aggiungiamo delle spezie aggiungeremo delle spezie sia metà cottura in base anche a cosa troviamo di stagione in questo caso uso bacche di ginepro cannella e delle erbe aromatiche anche la cannella che è particolare non troppo per un po di cannella un po di cannella ci sta e quindi lentamente lentamente in finacché abbiamo raggiunto una cottura perfetta come il grande brasato di una volta al barolo però qua lo facciamo con il barolo del sud e allora antonio eccolo qua un brasato direi effettivamente langarolo sembra che arrivi da alba dalle zone invece invece arriva al cento per cento del lucano lago negro si esatto il grande il grande brasato di lago negro lo chiameremo così certamente grandi profumi e il vino non chiedo neanche che cos'è perché abbiamo abbinato lo stesso vino che abbiamo usato per cuocere il brasato ovvero l'alianico del vulture il magnifico alianico del vulture bene a questo punto dal lago negro è tutto grazie e alla prossima